I 60 minuti giocati da Giancarlo Malcore a Caserta l'11 maggio, nello 0-0 coinciso con l'eliminazione dei play-off, potrebbero essere gli ultimi con la maglia del Cerignola per l'attaccante? Le prime indicazioni, in vista del calcio mercato estivo 2024, farebbero pensare di sì. Il centravanti originario di Milano è infatti nei radar di diversi club di serie C e serie D e la sensazione, dopo quattro anni con l'audace, che il futuro del trentenne possa non essere più a tinte giallo-blu. Ad anticiparlo erano state le parole del suo consulente di mercato Luigi Romano, che nelle scorse settimane spiegava come la storia tra le parti sembrava destinata a finire, con reciproca intesa, voltando pagina dopo quattro anni in cui l'audace Cerignola ha dato tanto al giocatore e Malcore ha ricambiato, offrendo tutto se stesso a club e città. Sullo sfondo restano 75 reti in 140 partite, lo scettro di vice capo cannoniere interno di questa stagione alle spalle di D'Andrea, il salto di categoria dalla D alla C e due partecipazioni ai play-off di fila. Un bottino solo in parte condizionato dallo scarso impiego nel finale di stagione, con 143 minuti giocati nelle ultime sette partite. In cima all'elenco dei potenziali acquirenti c'è il Trapani, società che pensa già alla costruzione della squadra che giocherà il prossimo campionato di C dopo aver dominato il girone I di Serie D. A interessarsi delle condizioni dell'attaccante anche Fidelisandri in D e potenza in C. Con un anno di contratto ancora siglato con l'Audaci, il club Bofantino non se ne priverà però a cuor leggero. 300.000 euro circa la richiesta di partenza per il cartellino di Malcore e la sensazione è che si sia solo all'inizio di una partita a scacchi. In un Cerignola che presenta quattro giocatori a fine contratto, Krapicas, Trezza, Bianco e Allegrini e un altro poker a fine prestito, Barosi, Rizzo, Ghisolfi e Lombardi. L'eventuale addio con il centravanti, simbolo di questo quadriennio, potrebbe rappresentare la prima vera operazione in uscita della stagione 2024-25.